Buonasera, buonasera a tutti quelli che sono qui collegati e quelli che poi vedranno successivamente questo video. Oggi ringrazio anzitutto chi ci ospita in questo bel giardino, la famiglia Barbiero e vi porto i saluti del sindaco che in questo momento è impegnato nella definizione speriamo positiva del caso di Covid di cui egli ha parlato alle 12 nella sua diretta. Stiamo seguendo chiaramente in maniera continuativa il trasferimento secondo quello che era il protocollo delle isole sicure che abbiamo a suo tempo sottoscritto con la ASL per cui il sindaco sta seguendo a tutela di tutti che le operazioni si svolgano con serenità e con tranquillità. Ci tengo a fare gli auguri alla persona che è stata e si è scoperta affetta da coronavirus, siamo sicuri che se la caverà benissimo le salutiamo e le facciamo un grande in bocca al lupo. Continuano i nostri appuntamenti della nostra campagna elettorale al tempo del coronavirus attraverso queste forme di presentazione collettiva di quelli che sono i candidati nella lista della Procida che vorrei, lista che abbiamo presentato sabato e che vede assessori e consiglieri uscenti e tante nuove facce che avremo modo di presentarvi nei successivi appuntamenti. È una campagna elettorale che facciamo in maniera partecipata, pubblica attraverso questi momenti che sono registrati e in diretta attraverso i social, ma come avete visto siamo anche per strada con le passeggiate, nell'incontro con i cittadini, altri momenti successivi ci saranno. È una campagna nella quale noi presentiamo quello che abbiamo fatto e non è poco a mio avviso, quello che abbiamo ancora in cuore di fare col contributo di tutti ed è una campagna pubblica, non ci sono momenti di, come dire, non ci sono segreti, è una campagna aperta e trasparente. Quindi invito chiunque a voler anche fare domande e commentare anche alla base di questo video o secondo quelle che sono le forme che ritiene ciascuno di noi candidati, saremo ben felici di dare risposte, di dare il nostro contributo, le nostre porte come in questi cinque anni sono e rimangono aperte perché siamo stati gli amministratori di tutti. Oggi è il turno del nostro soggetto nobile, se vogliamo, un caro collega, un amico, quasi un familiare, dobbiamo dire, perché abbiamo condiviso tanto, abbiamo condiviso oltre che questi cinque anni questa esperienza così forte, così pregnante che è quella dell'amministrare un paese ai tempi del coronavirus. Parlo di Antonio Carannante, per tutti i toni, assessore con deleghe importanti, pesanti, deleghe che hanno fatto e hanno caratterizzato questa amministrazione, il lavoro marittimo, Vivara, la valorizzazione di terra murata e di Palazzo d'Avalos e il contenzioso, cioè Antonio ha tenuto in mano patate bollenti veramente che non gli invidio e quindi oggi conosciamo un po' le cose che lui ha fatto, ripercorriamo il suo percorso e poi lui stesso ci dirà, condividerà con noi quelli che sono i progetti, i progetti futuri. E nulla, cominciamo come d'abitudine con la domanda della nostra cara amica Fabiola. Buonasera a tutti, grazie per questa opportunità che mi date di partecipare ogni volta con voi in questi giardini meravigliosi procidani. La mia non è una domanda di competenza, nel senso che poiché vi seguo un po' so quello che fate e quello che avete fatto. La mia è una domanda un po' più umana. Cinque anni con le tue colleghe, con i tuoi colleghi, chi conoscevi e chi non conoscevi, con chi è stretto di più o chi di meno, cosa ti ha lasciato ognuno di loro? Cosa ti aspetti da ognuno di loro domani? Perché per me voi restate sempre tutti quanti insieme e la proceda che vorrei. Innanzitutto ringrazio Titta per l'introduzione, ha detto tutto quindi potrebbe anche finire qui l'intervento. Comunque molto sinteticamente la domanda di Fabiola è impegnativa. Certamente amministrare è un'esperienza umana forte, più di quanto uno possa immaginare forse quando si intraprende questo cammino. È forte perché chiaramente hai contatto diretto con i cittadini, devi fare squadra con i tuoi compagni, devi sopportare la pressione esterna, devi avere i rapporti con la stampa, con l'opinione pubblica. Sei in un paese in isola così piccola, ovviamente al centro dell'attenzione, i riflettori sono accesi su di te. Per cui è un'esperienza umana che forse ogni cittadino dovrebbe fare perché ti rende sicuramente più maturo, aumenta anche la tua esperienza civica. È stata un'esperienza per quanto mi riguarda mi segnerà sicuramente per tutta la vita perché ho voluto condividere dei momenti anche difficili, ma uno per tutti, penso al Covid, abbiamo passato mesi dove con Titta, con l'assessore Lauro, col sindaco, quotidianamente ci recavamo al comune, rimanevamo lì ore perché ci sentivamo in quel momento la grande responsabilità. Dico un episodio per tutti, ma dico anche la fase iniziale, quando ci siamo ritrovati sull'oldo del distesto abbiamo dovuto fare gruppo anche non conoscendoci tutti benissimo e quindi abbiamo dovuto aiutarci l'un con l'altro nell'approntarci a questa nuova avventura. C'era il nuoto e fronte da portare avanti, appena di venire verso il finanziamento, c'era la corte di conti che ci convocava. Insomma sono esperienze forti dove se non c'è una solidità umana e soprattutto una fiducia molto forte di un con l'altro si finisce con il perdere e l'aburso. Quindi io ringrazio i miei compagni di viaggio perché con loro ho vissuto veramente 5 anni, certo ci sono stati momenti di tensione, abbiamo litigato, però penso che tra persone che si stimano e si vogliono bene anche il momento difficile si supera, anzi vuol dire che il trapposto è vero e non è finto e quindi anche se qualche volta ci si manda a quel paese, ma il fine ultimo è quello di fare il bene del paese e non è un luogo comune, penso che in questi 5 anni altro che odio sociale è spaccatura. Siamo sempre stati a disposizione dei cittadini, veniamo contattati su WhatsApp, su Facebook, abbiamo un sindaco che rimane 12 ore al comune, in qualsiasi momento è possibile parlare con lui e con gli assessori, tant'è che molte volte si contattano con un messaggio su Facebook e sempre e comunque trovano una porta aperta. È chiaro che non tutte le richieste possono essere accolte, ma l'amministrazione ha il compito di lavorare per fare in modo che le istanze dei cittadini possano essere esaurite. Quindi io a questa tua domanda, alla domanda di Fabio, rispondo sì, è stata un'esperienza che mi segna sicuramente per il resto della mia vita in senso positivo perché mi ha insegnato anche cosa significa affrontare insieme delle esperienze che sono importanti non solo per te stesso, ma per la comunità in cui ci hai cresciuto e continui a vivere. Assessore buonasera, una delle sue deleghe riguarda la riqualificazione di Palazzo D'Avalos. Siamo partiti già un po' di tempo fa, abbiamo iniziato con un primo gruppo di lavoro, abbiamo continuato poi con la possibilità delle visite guidate all'interno della struttura, il palazzo è ripartito, come si dice sempre il palazzo sta riprendendo vita. A che punto è l'opera di riqualificazione di Palazzo D'Avalos? Che informazioni nuove ci può dare e cosa c'è in prospettiva sempre per questa struttura? Grazie. Ringrazio di questa domanda Luigi Primario perché lui è uno dei testimoni di questi cinque anni. Ricordo molto sinteticamente che abbiamo, quando ci siamo insediati, Palazzo D'Avalos carcere era chiuso al pubblico, quindi con l'aiuto di volontari, tanti cittadini e anche un piccolo progetto abbiamo completato di besta in sicurezza, lo abbiamo aperto a pubblico dal novembre 2016 e lo abbiamo affidato dell'associazione culturale di cui appunto Luigi è uno dei componenti. Su questo voglio spendere una parola. Sicuramente oggi Palazzo D'Avalos è diventata una meta turistica di tutto riguardo della regione campane ma anche a livello nazionale, contiamo di migliaia di visitatori, ormai ad esempio l'alba Palazzo D'Avalos è diventato un must per l'isola di Procida. La soddisfazione più bella è il fatto che siamo sulla strada giusta e che l'associazione Palazzo D'Avalos, composta da tanti giovani ma anche persone più adulte, ha compiuto un percorso progressivo negli anni che ha portato a fare in modo che queste associazioni, questi ragazzi iniziano a sentire propria il Palazzo D'Avalos e l'ex carcere di Procida. Per cui questo è sicuramente un passo in avanti poiché quando la comunità e la cittadinanza inizia a sentire propri i beni comuni, i beni della comunità vuol dire che è una maturazione ed è questa la strada che noi vogliamo percorrere per fare in modo che il pubblico non venga visto come qualcosa di diverso dal privato. Per quanto invece riguarda la riqualificazione abbiamo approvato il piano particolarizzato dell'architetto Rosalba Iodice che è lo strumento urbanistico per realizzare il progetto, un progetto che prevede il Palazzo D'Avalos come un grande contenitore di arte, di cultura, di attività ricettiva, ci saranno previsti circa 200 posti letto e ovviamente anche delle attività di carattere economico. Un grande quindi contenitore di respiro internazionale. Guardate queste non sono delle parole che vengono dette in ogni campagna elettorale perché durante questi cinque anni e non lo dico perché sono l'assessore delegato abbiamo portato avanti un lavoro importante anche per l'analisi economico finanziaria per proporci poi al mercato e fare in modo che si vada sul mercato internazionale alla ricerca di investitori in maniera compiuta e in maniera precisa con degli strumenti tecnici. Quindi abbiamo fatto uno studio di prefattibilità economica con l'Agenzia del Demanio, abbiamo appunto detto il piano particolarizzato dell'architetto Iodice e nei prossimi anni il compito sarà quello, uno, di sondare il mercato per capire chi potrebbe e in quale settore investire nell'ex carcere, due, aprire un mando di gara internazionale. Tutto questo ci permetterà, nel caso in cui non si dovessero trovare investitori, anche di andare a parlare col Ministero dei Beni Culturali che ha i riflettori accesi su quest'opera e infatti di recente il sottosegretario Traversari si è fortemente interessato proprio per interloquire il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dei Beni Culturali per un finanziamento pubblico nei confronti appunto del Palazzo d'Avros, ma a questo bisogna aggiungere anche l'interessamento della Cassa Depositi e Prestiti che è fortemente attenzionata. Quindi ripeto, non parole da propaganda elettorale, ma dei fatti concreti di un percorso che è stato portato avanti in questi 5 anni e tutto questo insieme a un'associazione meravigliosa che sta facendo rivivere l'ex carcere. Recentemente è stata pubblicata anche una guida che consiglio di leggere perché mi amo definirlo come un fiore che sboccia in un terreno un po' arido dopo tanti anni di abbandono. Buonasera Assessore. Io volevo chiedere una cosa. Sono 80 anni e è la prima volta che sento la parola delega ai marittimi. Eppure siamo un paese che ha vissuto sui marittimi, vive e vivrà sui marittimi. Vorrei sapere cosa avete intenzione di dare con i marittimi. L'idea di creare una delega al lavoro marittimo nacque da un'interlocuzione con il circolo capitano e macchinisti che lo chiedevano già in campagna elettorale. Abbiamo mantenuto questa promessa. È chiaro che è una delega che mira in particolar modo a fare in modo che Procida diventi sempre più forte nel campo marittimo, anche se sembra che non ce ne sia bisogno, ma soprattutto di fare in modo che come Capri è al centro di una serie di incontri ormai di livello internazionale sulla imprenditoria giovanile, porto questo esempio, a noi piace pensare che Procida diventi un centro internazionale sul lavoro marittimo in modo da attirare quello che è lo shipping e lo settore marittimo di tutto il mondo. Nel nostro piccolo abbiamo realizzato un convegno, grazie al circolo capitale dei macchinisti, ma grazie anche alle associazioni Alamari, agli amici Gianni Paudice, Fabio Pagano, Nicola Salvemini, che in questi anni mi hanno sostenuto e ci siamo sostenuti reciprocamente per realizzare questi convegni che non è fuffa, non è semplicemente qualcosa di teorico. Mira a far sedere intorno nello stesso tavolo i rappresentanti delle istituzioni, gli armatori e ovviamente la categoria dei lavoratori per elaborare una serie di proposte e di modifiche legislative da portare all'attenzione del Parlamento. Lo abbiamo fatto due anni fa con l'onorevole Carloni, che era membro della Commissione dei Trasporti, e abbiamo fatto una proposta di legge che mira a snellire tutta una serie di pratiche amministrative nel rilascio dei titoli professionali, nel rilascio dei libretti, una serie di pratiche molto burocratiche che assillano la vita lavorativa del marittimo e questa proposta è oggi in Commissione Lavoro. Ma un'altra proposta che abbiamo portato avanti è quella durante il periodo Covid di fare in modo che vi sia un sostegno economico anche per i lavoratori marittimi, perché nell'ambito del decreto Salva Italia non erano previsti. Tramite l'onorevole Valente del Partito Democratico abbiamo elaborato una proposta che è stata recepita nel decreto di agosto, il cosiddetto decreto agosto, ed è anche piccola per un'indennità al pari degli altri lavoratori in favore dei lavoratori marittimi. Abbiamo poi redatto un elenco comunale dei marittimi caduti in mare che già l'anno scorso abbiamo recitato durante la messa di soffraggio dei marittimi e abbiamo in mente di creare una banca dati di tutti i marittimi attivi sull'isola di Procida, ma di implementare sempre più quello che è il convegno che dicevamo prima. Dare in modo che Procida diventi sempre più, più di quando non lo sia già, al centro del settore marittimo, perché è innegabile che è un polmone importante della nostra economia e a nostro parere deve continuare ad esserlo nonostante l'isola sta viaggiando verso una vocazione sempre più in chiave turistico-culturale, quindi verso un turismo non di qualità, diciamo così, detto in parole vuote, ma un turismo di qualità esperienziale, attento all'ambiente, attento alla conoscenza dei beni culturali, attenti a fare in modo che vengano sempre più dei viaggiatori e non semplicemente dei turisti sulla nostra isola, che quindi siano rispettosi del territorio e ci arricchiscono sempre di più. Buonasera, assessore. Io non sono procidano di origine. No, mi spero mi sei immaginato di averti visto da qualche parte. Ma ormai è una nozione, mi auguro, almeno è una notte. La mia domanda è molto leggera. Lo sapete, riguardando la sua esperienza di questi 15 anni, se si ricorda un episodio divertente, e poi che cosa l'ha emozionato di più per svolgere il suo carico, il suo... Cosa dicendo? Io ti leggero. Sì, una domanda leggera fa caldo, quindi... Sì, non mi addentro. No, allora, l'esperienza amministrativa, io dico che tutti i cittadini, continuo a dirlo che tutti i cittadini dovrebbero farlo perché vai dall'altro lato della barricata, anche se non dovrebbe essere così. E tra scartoffie varie litigate e, diciamo così, anche senso molte volte di frustrazione perché non riesci a contentare quello che tutto ciò i cittadini ti chiedono, nel senso buono del termine. C'è sicuramente anche l'episodio divertente e più di qualcuno. A me quello che amo ricordare sono diversi, però forse quello più curioso mi capitò qualche estate fa dove un ristoratore dell'isola, penso poco prima di Ferragosto, mi chiamò e disse guarda c'è un problema, chiama i vigili perché ho una capra sulle scale vicino al ristorante e quindi ho parecchia gente a cena e questi si mettono paura e stanno disdicendo. E mi ricordo che c'era una festa di tutti i trentenni, 25 anni, cioè i ragazzi molto giovani che erano tutti gasati per questa cena e quindi chiaramente volevano festeggiare questa... Io andai sul posto perché i vigili ahimè non risposero, noto adolente, e quindi andai sul posto. Andai sul posto e a mio pare, avevo anche io paura di questo caprune, poi tutto sommato, che era un proprio caprune, e il caprune a un certo punto io cercai di chiamare i veterinari, che erano Veronica e il marito, che ringrazio ancora Veronica Varone, e a un certo punto il caprune quando vennero i due veterinari cominciò a salire sulla piccola montagna. E devo dire la verità che la dottoressa Varone, con mia grande sorpresa, cominciò a inseguirlo su questo dirupo. Il caprune però, non tanto caprune, prese un'altra strada e sparì al tramonto. Allora sembrava che il pericolo fosse cessato. L'indomani mattina mi richiamò il ristoratore e disse guardi il caprune è rispuntato sulle scale, la gente deve andare a fare il bagno. Insomma, iniziò la caccia al caprune, grazie sempre ai veterinari, e tutti noi, insieme a due amici, il caprune andò sulla spiaggia. Noi a ringolo sulla spiaggia con la gente che stava facendo il bagno, ci prendevano. Lui, il caprune, poi uscì per via dei bagni, risalì tutte le scale, e io mi ritrovai a San Giacomo a prendere questo caprune insieme alla protezione civile. E un uomo che stava a San Giacomo mi disse, è la prima volta che vedi un assessore con un caprune. E chi era il caprune? Questo bisognava capire. Questo poi per dire cosa significa fare l'assessore in un piccolo centro. Nel senso che in un piccolo centro l'assessore fa anche questo, ma per carità non è da disdegnare. Però quando parlano di contatto e di caprune, di spaccature nel paese, mi viene un po' veramente da sorridere. Buonasera, devo fare le mie congratulazioni a questa amministrazione, perché finalmente ha risolto alcuni problemi gravosi e annosi che si portavano da anni e che adesso è facilmente palpabile che sono stati risolti. Ad esempio il potenziamento dell'illuminazione pubblica in alcune strade. Io ho prestato il mio muro per poter applicare le lampade. È un'ottima cosa. Il problema della corricella, ad esempio, che era una fogna a cielo aperto, adesso è stato risolto. E soprattutto l'impegno di questa amministrazione nella valorizzazione reale non politicizzata dell'isola. Abbiamo avuto l'incremento al Palazzo Davalos. Un'altra zona da valorizzare è questa. Questi erano tutti giardini pertinenziali al Palazzo Davalos e quindi può essere immesso in un programma futuro. Perciò mi chiedo quali sono i progetti futuri di questa amministrazione. Grazie. Mi piace questa riflessione non perché sono di parte, però accolto dei punti che noi abbiamo in questi anni su cui abbiamo insistito. Mi piace ricordare Marina Corricella, poiché le prime stati erano a morire, c'era continuamente il sversamento di acque nere in mare e negli anni 2000 lo ritengo inammissibile. E devo riconoscere che io da cittadino, cioè prima che diventassi assessore, non sapevo che c'erano ancora degli scarichi fognari che si mettevano direttamente nelle acque di Marina Corricella. E credo che gran parte dei cittadini procidani come me lo ignorassero. Quando lo seppi, ed era il 2016, badate bene, neanche appena insediato, ricordo che feci subito un punto con la SAP e chiesi spiegazione di questo. Allora mi dissero che non c'era una mappatura degli scarichi, per cui non erano in grado di capire chi scaricava. In parole molto brevi si iniziò un'operazione di identificazione anche complicata con i coloranti e quant'altro. Convocai tutti i proprietari delle abitazioni interessati a Marina Corricella, c'era chiaramente da pagare l'immissione in Fogna, parliamo di centinaia di euro, nulla di che, però chiaramente i cittadini chiedevano spiegazioni perché dopo tanti anni che molti credevano che addirittura avessero uno scarico regolarmente messo in Fogna, invece non era così, scaricavano nelle acque di Marina Corricella. Un lavoro quindi durato mesi e oggi possiamo dire con soddisfazione che questo problema è stato risolto. Un problema, ripeto, che potrà sembrare forse ininfluente, ma da cittadino lo dico e non da amministratore lo ritengo veramente un bel passo in avanti. Sull'illuminazione abbiamo un progetto da oltre un milione di euro di cui aspettiamo un finanziamento, però nel frattempo abbiamo risolto un precedente contratto di circa 15.000 euro al mese che però non aveva prodotto i risultati sperati. Abbiamo trovato questo contratto di 15.000 euro al mese con una società che si era obbligata a realizzare l'impianto di illuminazione in tre anni, erano passati sette anni ma l'impianto era stato realizzato solo nella misura del 20-30%, nel frattempo il comune continuava a pagare circa 180.000 euro al mese. Per cui dopo due anni e un anno e mezzo, una volta affidato da un tecnico che sarà in grado di analizzare i costi e soprattutto l'efficienza del servizio o meglio della prestazione, abbiamo sciolto il contratto affidato alla SAP con la metà della spesa e ora abbiamo un nuovo progetto per rifare tutto l'impianto per procida di pubblica illuminazione e guardate che la pubblica illuminazione non è solo un problema di risparmio energetico ma anche di tutela dell'ambiente per l'inquinamento luminoso e quant'altro. La SAP nel frattempo in attesa di questo finanziamento con grandi sacrifici ha realizzato interventi sul territorio come ricordava il dottor Barbiero prima e quindi abbiamo potenziato via Serra, abbiamo potenziato via Pizzaco, abbiamo potenziato un po' questo quartiere, abbiamo potenziato via Alcide dei Gasperi era un tratto buio che ricordo ogni volta che ci passavo maledivo coloro che non avevano provveduti avevo la mentele di cittadini che andavano lì a fare footing o comunque attività motorie e di sera soprattutto per le ragazze era un pochino antipatico quindi abbiamo illuminato questa zona poi in collaborazione con l'assessore Lauro anche l'impianto di illuminazione al campo sportivo con un mutuo di circa 350 mila euro quindi per una struttura così importante insieme al rifacimento del manto erboso quindi guardiamo al futuro con un nuovo progetto nel frattempo abbiamo migliorato nelle nostre possibilità l'illuminazione. I progetti futuri sono molti abbiamo il rifacimento ovviamente il sistema idrico, abbiamo il rifacimento della pubblica illuminazione, portare avanti il Palazzo D'Avalos per fare un bando di gara internazionale e creare posti di lavoro non lo dico in maniera propagandistica, è la realtà. Sarà un grande contenitore dove chiaramente noi chiederemo all'investitore di turno di farsi carico, di assumere mano d'opera locale ovviamente nell'ambito delle competenze che potranno servire. Ripeto, non è propaganda, è semplicemente un dato di fatto. E poi altro progetto importante per la tutela dell'ambiente è stato anche quello della decarbonizzazione, cioè di ridurre l'emissione di enidride carbonica nell'area, questo è in linea con la nostra politica ambientale, abbiamo avuto un finanziamento di 450 mila euro dall'Unione Europea, siamo un caso pilota in Europa e guardate questo ci dà anche grande illustro in chiave turistica attrattiva perché diventiamo un laboratorio europeo di un piccolo centro attento alle politiche ambientali, non lo fa in maniera teorica ma lo fa in maniera concreta. Buonasera Tony, io voglio farti una domanda un po' spinosa ma penso che sia una curiosità un po' di tutti i procidani, la faccio all'assessore, con la delega al contenzioso e la faccio all'avvocato. Dunque con le modifiche che tu hai apportato al contenzioso, siete riusciti a risparmiare oltre mezzo milione di euro. Innanzitutto di che modifiche si tratta? Perché sei arrivato a questa scelta e se poi ci sono state delle ripercussioni in termini di organizzazione proprio per il contenzioso stesso? Grazie. Sì, il contenzioso quando ci siamo stati eletti avevamo una spesa fissa, una spesa legale per gli avvocati di 120 mila euro l'anno di sola consulenza e poi per ogni causa che si faceva gli onorari per ogni avvocato erano gli onorari minimi ridotti del 20%, quindi avevamo un costo fisso di 120 mila euro l'anno che era un costo che non ci potevamo permettere nonostante se non avessimo un ufficio legale perché il comune non è provvisto di un ufficio legale. Quindi abbiamo deciso di sciogliere questo contratto e quindi abbiamo risparmiato i 120 mila euro l'anno. Qualcuno potrà obiettare che in questo modo l'efficienza dell'assistenza legale al comune sia stata ridotta. E io dopo cinque anni posso dire che certamente non è così perché abbiamo fatto in modo di creare una short list e individuare gli avvocati volta per volta e con gli avvocati determinare sin dall'inizio l'importo dell'onorario. In questo modo non maturano dei debiti non previsti del bilancio di cui poi si fatica a coprire, di cui si fatica poi a trovare le risorse per pagare. Per cui questa è stata la duplice azione che ci ha permesso di risparmiare ma soprattutto di non perdere in efficienza del servizio legale. A questo poi mi piace ricordare che quando abbiamo avuto un po' di disponibilità nelle risorse del comune mi sono messo proprio al telefono tipo commissario liquidatore a chiamare i creditori dell'ente e fare in modo che accettassero una somma ridotta, che ci facessero uno sconto detto in parole molto semplici. In questo modo la massa di debiti che avevamo, una parte chiaramente, si è ridotta nel 50% e quindi abbiamo avuto un altro risparmio sicuro intorno ai 300-400 mila euro. E questa è un'altra operazione di cui andiamo fieri perché abbiamo toccato con mano cosa significa risparmiare e soprattutto far risparmiare i cittadini già obberati da una massa di debitoria importante di cui tanto si parla, tanto si discute, però la massa di debitoria, aggiungo pur non essendo un esperto in economia, sta lì o meglio sta lì, sta addosso a tutti i cittadini, compreso me e questo penso sia un fatto pacifico per tutti. Buonasera Assessore, la mia è una domanda da turista, anzi da viaggiatore come si è definito prima, che ama Procida e che la frequenta ogni anno da una decina d'anni, anche più volte l'anno. La mia domanda è riguardo l'isolotto di Vivara, com'è la situazione oggi? Grazie. Vivara Croce e Delizia dice qualcuno, innanzitutto benvenuto all'amico viaggiatore, sempre benvenuto sull'isola di Procida. Vivara ovviamente è una riserva naturale dello Stato ed è anche proprietà privata, oggi è proprietaria degli ereditiani, prima della fondazione Albano Francescano. Appena eletto era chiusa al pubblico perché gli immobili erano sotto sequestro a causa di un'indagine in quanto gli immobili non erano stati messi in sicurezza. Per cui convocai un po' tutte le parti, il comitato che gestisce Vivara, c'erano appunto il presidente della fondazione, il procedimento penale era finito però Vivara restava chiusa e mi ricordo che giravo un po' le varie porte e tutti mi dicevano non è nostra competenza dare l'ok per l'apertura. Alla fine riuscimmo a fare una riunione in collaborazione col comitato perché è un comitato del ministero che gestisce Vivara, ci sedemmo intorno a un tavolo, la fondazione allora non aveva la forza economica di organizzare le visite e io sommessamente me ne feci carico non sapendo, tornando al comune, cosa mi avrebbe detto il sindaco, però mi presi la briga di dire che il comune di Procida vuole organizzare le visite perché poi detto così è semplice ma organizzare le visite significa mettere su una macchina organizzativa, significa un sistema di prenotazione, avere delle persone che ci lavorano. Ad ogni buon conto la cosa andò bene e nell'aprile 2017 abbiamo riaperto al pubblico in maniera penso per la prima volta sistematica c'era un servizio di prenotazione. Dove nacque il problema è chiaramente su una macchina burocratico un po' lenta perché si pretendeva che le prenotazioni dovessero avvenire con la richiesta dei documenti, del modello di prenotazione, la firma di un modello di dichiarazione di responsabilità, insomma per fare una visita a Vitale ci voleva un'email con sei allegati. Qui c'è stata un'insistenza presso il Ministero e presso il Comitato perché questa procedura venisse snellita. Nel frattempo è sovraggiunto il Covid, oggi il Comitato è stato sciolto dal Ministero, vi è un Commissario che ha recepito tutte queste istanze e di questi viaggi che negli anni ho fatto al Ministero tipo alla Madonna di Lourdes e alla fine tutte queste procedure sono state snellite. Ora siamo in attesa di un taglio di alberi che non si è potuto effettuare in questi mesi, avverrà da parte di una società della SMA, di una partecipata della Regione Campania e dopo ritorneremo appunto a riaprirlo con uno snellimento maggiore con le guide del Sorosola Bene in Casa, formate al Sorosola Bene in Casa. Il sogno è quello in questi anni seguito di fare in modo che gli scavi archeologici micenei, un'altra bella scoperta che ho fatto dall'assessore, forse da cittadino ignorante, sia finalmente aperto al pubblico e ci sia una frizione pubblica degli scavi archeologici micenei che tanti turistici ci chiedono. C'è un villaggio nella punta che riguarda Ischia che io nel luglio del 2015 appena letto, ricordo che era al ristorante alla Chiorilla e c'era una giornalista del Corriere Mezzogiorno alle mie spalle di cui poi sono diventato amico e incontrai un professore lì a cena e mi disse domani vado agli scavi, io ignoravo che ci fossero, ammetto la mia ignoranza, e lui disse domani mattina vengo con te. La giornalista si intrufolò sapendo che io la mattina lì si fece trovare le 7 di buon mattino che faceva molto caldo e insieme scoprimmo, e vi dico che fu veramente uno dei momenti più belli di questo assessorato, non lo dico per retorica, ma scoprire tanti ragazzi che lavorano a dei reperti di 1500 anni fa in uno scenario meraviglioso penso che valga la pena. Allora io invece su, mentre tu parlavi e sai bene che per me è un argomento di professione, mentre dicevo questo, pensate di fare delle guide mentre ci sono gli scavi, cioè una cosa che volevo sapere, proprio per far sì che ci sia una sensibilità maggiore alla storia archeologica di Procida, che è scritta su tantissimi libri ma che in realtà in me è poco conosciuta in principio da noi procidani. Ecco, se nelle guide sarà previsto delle visite durante gli scavi con gli archeologi che facciano didattica e divulgazione del loro operato. La butto lì perché ora mentre parlavi mi sono immaginata questo tipo di attività, quindi se con il suo rorsola ha intenzione anche di proporgli questo tipo di lavoro. Sì, su questo è un sogno, la fruibilità degli scavi è sicuramente un sogno e rappresenterebbe un ulteriore attrattore per l'isola in chiave turistico-culturale. Questo sicuramente, ma dirò di più, vi è un progetto del suo rorsola bene in casa di realizzare tipo una copertura degli scavi e quindi renderli proprio visitabili in maniera importante e sicura. voglio solo dire che per realizzare il sentiero che conduce agli scavi parliamo di un centinaio di metri al massimo. Io penso che l'Italia è un paese ucciso dalla burocrazia, anche questo è una mia battaglia di questi anni, l'ho fatto nel mio piccolo e nei miei settori e anche per realizzare questo sentiero che sembra una sciocchezza, ma farlo in una riserva naturale per 100 metri si dice che metterli su un'organizzazione che costa tanta burocrazia e tanta fatica. Però sono molto ottimista per i prossimi cinque anni perché già c'è una predisposizione di progetti d'altro e c'è un'ottima intesa, questo rossola bene in casa, ricordo sempre con grande affetto il professore Marrazi perché è un professore di 70 anni ma con l'entusiasmo di un ragazzino, a me le persone così piacciono, forse perché mi rivedo un po', però senza quell'entusiasmo certe cose non si possono fare. In questi anni su Vivare è stato detto di tutto di più, molte volte c'è stata l'amarezza di scontrarsi contro il muro di gomma della burocrazia, però dopo cinque anni io penso che abbiamo abbattuto appunto una serie di ostacoli. Questi cinque anni saranno veramente gli anni di un rilancio come mai visto prima per l'isola di Vivara. Su questo voglio aggiungere che poi nel frattempo abbiamo istituito il museo civico virtuale che riprodurrà tutti i reperti archeologici micenei e per la prima volta esporremo proprio i reperti, diciamo così, quelli materiali fisici, non solo virtuali, appunto di scavo e lo faremo sicuramente prima dell'inizio. Stiamo là, c'è il Covid, diciamo, un po' bloccato in tutte queste iniziative, siamo stati tre mesi fermi, altrimenti l'avremo già realizzato. Quindi tante belle cose che veramente arricchiscono l'isola, ma non perché le abbiamo fatte noi, per il piacere veramente di farle e perché tanta bellezza non può restare chiusa in un cassetto o negli scantinati del Palazzo della cultura dell'ecca. Ci scusiamo per l'interruzione, volevi chiudere o passi? Sì, Giovanni, tu vuoi dire qualcosa? No, curiosità, ma giusto perché chiedo scusa, una curiosità, vista l'assessore che ti ho sentito spaziare su tutto lo scibile umano, voglio dire, e quindi mi farebbe piacere capire nella prossima amministrazione di cosa ti vuoi occupare, delle stesse tematiche oppure pensi che ci sia qualcosa che ti manchi e vuoi completare questa tua preparazione, questo tuo interesse, c'è qualcosa che ti appassiona? No, vabbè, io ripeto, in questi anni sono sicuramente delle deleghe molto di divisione di indirizzo, quindi mi appassionano sicuramente, però pensiamo a vincere le elezioni per un fatto scaramantico e poi dopo ci si riunisce il sindaco, sono a disposizione della squadra chiaramente per fare in modo che ci integriamo tutti nel migliore modo anche in base alle proprie attitudini e sarà la squadra a decidere se confermare queste deleghe, darne delle altre, proseguire il lavoro, sotto questo aspetto non ci sono delle preferenze a priori, sono a disposizione della squadra. Grazie Antonio, posso testimoniare direttamente che Antonio è una persona che è un uomo che spesso mi sono trovata con lui a mettere mano praticamente nelle cose, perché al di là del suo stile, della sua signorilità è uno che sa scendere anche in campo e sebbene i mocassini fanno il suo sporco lavoro, abbiamo fatto insieme diverse operazioni di volontariato civico, per cui posso testimoniare che la nostra amministrazione è un'amministrazione che non poggia sul formalismo, ma anzi ci piace scendere in strada, ci piace andare tra le persone, ci piace fare le cose e sporcarci le mani, io posso dirlo in maniera abbastanza a ragion veduta. Per problemi di audio non so se si è sentito che chiaramente porto i saluti del sindaco che sta seguendo le operazioni di trasferimento della nostra ospite che è stata colpita dal Covid-19 e mi dice che queste operazioni stanno andando avanti con successo, per cui ancora una volta facciamo un grande in bocca al lupo a questa ragazza, sperando che guarisca velocemente senza alcuna conseguenza di rilievo. Monitoriamo la situazione, continuiamo a fare come abbiamo fatto in questi mesi e oggi ancora di più dove Procida è meta di vacanza di tante persone che l'hanno scelta per godere della sua bellezza. Gli appuntamenti continueranno, il prossimo portate carta e penna calcolatrice è con il consigliere Villani che ci farà scuola in materia di conti, di economia, di bilancio. Sapete bene che la nostra prima priorità è quella di mettere in regola i conti del Comune di Procida. Molti mi dicono ma Assessore ma voi risparmiate, risparmiate, ma noi cittadini poi alla fine che poi invece di avere 23 milioni di euro di debiti di massa passiva ne avete 19,5 che ci fa, cari cittadini, ci fa tantissimo perché tutto quello che questa amministrazione riesce a guadagnare con i risparmi di spesa, con una gestione virtuosa, tutte queste risorse che con fatica vengono messe da parte noi non le possiamo al momento investire nei servizi ma dobbiamo ripianare questo grande debito che ci viene dalle amministrazioni passate ce lo impone la Corte dei Conti per evitare che venga dichiarato il dissesto per cui quando il cittadino viene e mi chiede la panchina oppure ci chiede la fioriera oppure ci chiede di intervenire su un problema, ebbene il problema dei nostri conti si riflette su questo quindi vedete quanto è importante per pagare i fornitori, per pagare gli stipendi, per essere un comune affidabile quindi il discorso conti, il discorso economia, anche se può apparire lontano, è fondamentale per una buona amministrazione non possiamo continuare a vivere sulle spalle delle generazioni future e noi che siamo stati le generazioni future di quelle precedenti ne sappiamo qualcosa quindi l'appuntamento è per mercoledì, per la diretta Facebook del consigliere Villani siate numerosi, portatevi gli appunti e continueranno questi appuntamenti perché ribadisco, la nostra è una campagna trasparente, non è una campagna privata, è una campagna pubblica noi siamo gli amministratori di tutti e come tali ci portiamo Alla prossima! Fagli, volevi terminare a te? Sì, mi associo alle parole del sindaco che sottoscrivo in piena e a proposito di sporcarci le mani mi piace poi ricordare tutta una serie di episodi mi ricordo che la prima estate che venimmo eletti io scendemmo in piazza Marina Grande per sollevare le attività perché allora la raccolta differenziata si faceva in maniera un po' sportiva e quindi andavamo, c'era il vice che mi instradava a capire come veniva fatta, come doveva essere la raccolta differenziata e quindi lei in maniera certosina diceva questo va bene, questo no e quindi mi ricordo anche Piazzetta San Rocco, la polizia delle spiagge esatto come prima esperienza e per ultimo ci siamo anche, per non farci mancare niente, anche il campo sportivo dove il vice signor si è meravigliato che stava con una zappa in mano però detto questo, vabbè poi il tenimento agricolo, insomma l'esperienza è stata però questo per dire appunto ai cittadini cosa significa fare l'assessore in un piccolo centro non certo quello di sedersi dietro a una scrivania e diciamo così tra le scartoffe varie ma appunto di sporcarsi le mani, grazie a tutti